Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, bentornati per quelli che mi seguono già Siamo pronti con la seconda tranche di video, partiamo subito Oggi vi mostro come creare una simpatica fattina d'oremi, la fattina musicale Allora, partiamo dal vestitino Ci serve un rettangolo di pannolenci, filtro 1 mm, dimensione 7,5 x 3,5 Piego a metà, parte chiusa verso il basso Arrotondo la parte superiore Creando una sorta di petalo Ne prepariamo 4 E un po' di raso in tinta altezza 3 mm Procedo con la legatura per creare una sorta di fiore Che è un similare alla florina ma senza la legatura passante Procedo E leggo tutti i petali In questo modo Vi ricordo che trovate tutte le misure e i riferimenti qui sotto al video nell'info box Mentre i materiali che utilizzo sul nostro e-commerce Un cuore in pannolenci Un cuore in pannolenci, quindi bianco, dimensione 11,5 x 9 Vado ad incollarlo in questo modo Incollo a caldo Procedo Con l'aiuto del foratore Faccio due buchi Più o meno A occhio Ai lati Nella parte superiore Poi ci serve Allora Barretta di ferro Allora Spessore 1 mm Colore nero Io l'ho già messa a misura Ci serve 20 cm Quindi con il tronchesino la tagliate su misura Perfetto Con l'aiuto di un rotolino Do la forma Rotolino, bicchiere, quello che volete Benissimo Ci farà da manico Due svaroschini bicono 8 mm Infilo Ovviamente questi sono facoltativi Pinza Creo una piegatura Per poter infilare il nostro cuore Da una parte Chiudo Faccio scendere il cristallino Stessa cosa dall'altra parte Chiudo Faccio scendere il cristallino Poi se volete Potete un po' Metterlo a misura Allargarlo leggermente Perfetto Dunque Il fiore Riprendiamo Farà da vestitino Una parte di vestito Lo piego in questo modo Lateralmente E vado ad incollarlo Qui nella parte bassa Circa a 3 quarti Quindi colla Procedo Poi lo sistemiamo Successivamente Seconda parte Per il vestitino Un po' di tulle Sono 25 cm di lunghezza 12,5 cm di altezza Verde in tinta Prendiamo sempre Un po' di raso fino Giusto la quantità Per legare Piego a metà Il tulle In questo modo E farò Una plissettatura A mano Piegando Circa 2 cm In questo modo Cerchiamo di essere Precisi Leggo In centro Possibilmente Taglio via Quello che non serve Prima o dopo Adesso io lo farò dopo Andiamo ad aprire Il tulle Che abbiamo piegato Se non lo potete fare Anche prima Non importa Procediamo Per velocizzare Io taglierò così Benissimo Apriamo Il tulle Per bene Una sorta di pompon Qui c'è ancora Un po' di nastrino Vado ad incollarlo Qui sotto Per fare La seconda parte Del vestitino Quindi colla Tagliamo via Qui Che è un po' Troppo lungo Fisso il tutto Eccoci qua Poi Testina di legno Già stampata 2,5 cm Foro sopra Sotto Capelli rossi Un po' Un batufolino Creiamo effetto Crespo Per far aprire Bene I ricci In questo modo Prendo più o meno Il centro Metto una goccia Di colla Poi qui ci sono Vari trucchetti E poi Ognuno fa Come meglio Si trova Facciamo Raffreddare Un po' La colla Nel frattempo Prendo già Le ali In questo caso Utilizzerà Una frafalla In tessuto Queste sono già Pronte Con le paillettes E poi Vediamo come fare Allora La colla Diciamo che Si è raffreddata Facciamo un piccolo Pseudo Nudino Ecco Infilo Nel buchetto Mi aiuto Con la pinza Giusto per avere Anche un riferimento Ecco qua Incollo i capelli Un po' di colla Laterale Sopra Intanto Mi fermo Taglio a metà La farfalla Andiamo a creare Le ali In questo modo Incollandole E poi la testina Andrà al centro Quindi io procedo Un po' di colla Da una parte Un po' di colla Dall'altra La testina Colla dietro Perfetto Metto anche un po' di colla Davanti E poi Chiudo con il vestitino In questo modo Adesso Sistemiamo i capelli Mettiamo un po' di colla In centro Qui poi la capigliatura È proprio a pecere Stringo E poi Vado a fare Due Palline Due sorte di palline Una da una parte Una dall'altra Se sono troppi C'è qualcosa da tirare via Come nel mio caso Tagliate E fate E fate sì Che sia abbastanza Simmetrica La cosa Perfetto Aggiungiamo un cerchietto Passamaneria 6 cm Scusate Di lunghezza Più o meno Perché dipende Poi anche dal volume Dei capelli E 8 mm Di altezza Brucio Il capo Con l'accendino Colla Poi anche qui Vado a fissare Da un lato Sul retro Passo sopra Ai capelli In questo modo Poi sistemiamo Il ciuffo E attacco Anche dall'altra parte Accendino E direi Che ci siamo Ecco che non ho fatto presa Direi Ottimo Abbiamo fatto anche la frangetta Concludiamo Allora Un piccolo fiocchetto Per il collo Raso 3 mm È circa 20 cm Facciamo un fiocchetto Al volo Ecco che non mi è riuscito Riproviamo Perfetto Mettiamo a misura In collo Taglio via E brucio Sempre Con l'accendino Visto che è raso Perfetto Ultimo tocco Allora Preparo sempre Un po' di raso Fino Per legare Nastro Con le note musicali Circa 21 cm L'altezza È 1 Creo Creo un fiocchetto Sempre al volo Leggo Questa volta Però Da davanti A dietro E faccio Due nodi Mettiamo a misura In collo Da un lato Qui in alto Taglio via Tutto quello Che non ci serve E anche qui Brucio con l'accendino Sempre il raso Quello in tessuto No Perché non ha senso Benissimo Concludo con un ciondolino Porta fortuna Nel mio caso Un angioletto Custode Con la scritta In inglese Ultimo tocco Un po' di fard Per le guancette Ecco qua E la fattina È pronta Molto veloce E abbastanza semplice Senza cucire Io adesso Ho preparato anche Altre varianti Come al solito Qui ci si può Veramente Sbizzarrire Nei colori Negli abbinamenti Qui ad esempio Ho utilizzato Il verde menta Qui il pesca Abbinato poi Con il rosso Tonalità più neutre Scusate Con il lilla E il verdino Il giallo E perché no Anche il rosa Qui poi Ho modificato Un po' le applicazioni Quindi ci sono I cuoricini E ovviamente Poi cristallini Sempre in tinta Idea carina Secondo me Come regalo Si può anche Personalizzare Ripeto appunto Con i colori E i cristallini Magari anche in base Alla pietra Del proprio segno Zodiacale O al colore preferito Eccetera Bene ragazzi È un video un po' lungo Spero di essere stata Comunque chiara Grazie a tutti Ciao E alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti